Siamo il primo, l'unico comune del sud Italia e in tutto sono stati finanziati ben sette comuni a livello nazionale. Quindi un progetto relativo appunto agli festeggiamenti del centenario di Enrico Baringuer e siamo felici che nel concomitanza di questo anniversario siamo qui oggi stasera per inaugurare questa piazza, questo lago che è stato deciso dall'amministrazione comunale di intitolarlo a questo importante politico statista italiano come Enrico Baringuer. Un'occasione intanto importante per ricordare un grande uomo che ha segnato la storia e quindi quando si ricorda, quando si riporta alla memoria, si riporta al passato è sempre di insegnamento soprattutto per i nostri giovani che purtroppo di esempi positivi cominciano ad avere sempre di meno. Stasera è anche l'occasione per, in questa particolare circostanza, non soltanto per onorare appunto queste importanti figure ma anche per dare lustro a questa parte importante del comune di benestare e quindi omaggiare Baringuer in questa circostanza. Ricordando che il comune di benestare è forse l'unico comune che è riuscito a portare a casa questo importante finanziamento da parte del Ministero e quindi noi come città metropolitana siamo ben lieti stasera di inaugurare questo importante slargo che prende il nome appunto di Baringuer.